Se questo preventivo anche per equivalente all'importo di circa 760.000 euro nei confronti di tre imprenditori di sciacca e di altre tante società da loro amministrate. La misura cautelare reale tra origine dalle indagini coordinate dalla Procura europea condotta alla Guardia di Finanza che hanno esaminato la documentazione fornita a rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione di due opifici da un'azienda attiva nella produzione di olio d'oliva. Secondo un progetto di investimento ammesso a beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'importo complessivo nell'ambito dei fondi stanziati da Unione Europea, Stato e Regione per la trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli. L'attenzione degli investigatori è stata attratta da un contratto di appalto ritenuto al contesto palesemente antieconomico stipulato dalla società beneficiaria del contributo con un'impresa di costruzioni riconducibile a prossimi congiunti all'amministratore. Accordo che si sostanziava nella fatturazione in acconto e a stato avanzamento lavori di opere edili sono in minima parte, per brevissimo periodo, dirette e realizzate dalla società appaltatrice con propri mezzi e maestranze. Quest'ultima, priva di autonomia organizzativa e senza subire il rischio di impresa, si è limitata ad interporsi fra appaltante e reali esecutori dei lavori, emettendo fatture con l'indicazione di costi artrettamente gonfiati, se non in alcuni casi totalmente inesistenti, al solo fine di far aumentare l'importo complessivo dell'investimento. Il sistema della presunta frode aveva tre scopi principali, beneficiare di un contributo di importo maggiore, consentire l'evasione delle imposte mediante l'integrale in debita e detrazione dell'IVA esposta nelle fatture emesse dalla società fitiziamente interposta, destinare ad altri scopi gran parte dei capitali utilizzati dall'impresa beneficiaria della frode per il pagamento delle fatture gonfiate.